La parzelletta di Geppo Siamo in casa Si spalanca la porta, rientra la moglie Carica dei pacchi, dei buste, no? E ridendo, Val d'Armarito fa così Tesoro, non puoi capire Stavo facendo un po' di compere, no? Quando mi sono accorta che ho finito i soldi Che ho fatto? Sono venuta nel tuo ufficio Ma dato che non c'eri, ho preso da sola 500 euro dal cassetto della cassa Non ti dispiace, vero? E il marito fa, no, no, figurate È più del mese che ho cambiato ufficio La sveglia dei gladiatori Dimensione Suona Roma Il ritmo della capitale